Come cazzo di giorno? Dov'è che si seguita? Questa è una Oda Boyard, Oda Super, voi che dite? Super, che il negozio è solo quello a fianco Oda Boyard, neanche un negozio, sono un po' lì Super, super, super Super cari tranquilli che è tirando Tiriamo sopra, sotto, dentro Dentro come tanto, vedi la sopra Sopra, sopra, sopra Vediamo sopra che è tanto Carmelo che sta cagando addosso, tanto la puzza Sopra, sopra Lasciami un'arma, Dani Voi ho trovato un RPG coltato Ah, questo mi piace di più Rebuttato? Lasciami il giro, forse Eh, vaffanculo, amore E' uscito? Ok, sei andato Era quello che era metto prima Due colpi dell'assalto non farebbero male Io adesso risalgo Io adesso risalgo Ero, mi ero bussato Io pure scendiamo dalle finestre Tieni, Nick Io c'ho mun- mun- munition, eh C'è ne ho- Ah, tanto, c'è uno Una appena passata qua Sì, e probabilmente a destra c'è gente, raga Io miro destra Ecco, l'ho passato qua C'è una bomba, bomba, bomba Granata Ah, l'ho cattato con la... Ah, le spalle Ah, le spalle Io ho ucciso uno, quello lì alle spalle, penso Quello sotto Quello alle spalle, no No, c'è un altro lì A terra, ti mi ha eliminato, ti mi ha eliminato Mamma mia Vedi, non mi fa l'animazione, che molè Che paura, è morta qua Qualcuno ha... Dastra? No Vino appena trovate quattro dal cadavere Finito Arrivo Vaffa Eh, rata, potrei lasciarti nel tre, ma che ne lascio il due Grazie Grazie Eh, perché ti amo Allora, prendiamo il cigine Questa cacallo, va A me c'è un po' di splash Mi ha lasciato giù questo entro di combo Sì Sper, stiamo tutti assieme, rata Qua una volta poi C'è stato Sì Sì C'è che la fa Munizioni Medcaliber here Medcaliber here Mi sento una cassa, ma non conosco la cazza sta Ah sì, bella a carnale sta Dove ti so Di lo shop è quello lì dove abbiamo fightato il gioco in prima partita Lecce L'armer Abbiamo un po' di più Che Sto 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 ok attivo anche l'ho contratto un frattempo la porta ma la piatta ma io c'ho di nuovo lo scuro per proteggerci l'avventuale colpi alle spalle qui vado al volo a farmi l'altra cassetta sperando che la butti indietro di nuovo tu spari no non a me ma qui vado al volo qui vado al volo i miei munizioni del volcetto oh io ormai sono qua la chiudo qui vado al volo qui vado al volo qui vado al volo il colpo a tempo nelle vicino non c'è un po di crash a porco ma le butte i miei anche se sono pochi non lo vedo allora mi compro kit di autoress bombardamento di precisione chi ha che serve un soldo cosa c'entra bombardano un tino io dopo poi scelgermi e prendo uav e secondo me riusciamo a prendere anche un altro bombardamento niente io non c'è niente da prendiamo un altro via assolutamente io ti lascio giù 3000 extra cash io te ne lascio giù 900 ah si servono uno che si è droppato la appena c'è dove c'è stato ho preso l'uovi l'ho preso l'uovi l'ho preso l'uovi vediamo due due poi c'è un'altra testina in più vabbè sono full pieno di testa ti fa come prima perchè hanno appena arrestato in questo shop qua proprio ok guardate un attimo con la la sensore va spazio sotto ma guardate un attimo con la mi vabbè mi vabbè sbio mi vabbè Oh, mi stanno pure sparando, mi stanno sparando da dove siamo arrivati, dallo shop nostro. Macchina, anche macchina sotto. Io ho fatto malissimo a tutti, però, questi qua sotto. Uno l'ha eliminato. Io sto guardando dietro, una sopra nel piano di sopra, l'ho fatto male con una cittina. Oh, ne ha tirato su qualcuno. Alla porta? E' andato dietro, l'ho visto. E' andato a intettare la casa dietro. Uno è entrato in questo. Uno, stanno andando a prendere il lancio, l'ho visto. Che lancio? Ok, l'ho visto anche io passare uno qui. Uno è entrato in questo garage. Sono ancora lì gli altri. Se ne attiriamo uno, gli lancio un bel lancio. A terra, eccolo. A terra, a terra l'altro lì dietro. Tre uno in cielo anche, raga, guarda là. E' andato a arrestarlo. Ma gente, raga, di fianco. A terra quello che scendeva dal cielo, non è vero. Sì, che squadra avevo qui qua. Grande. Benissimo, raga. Guarda qua, UAV. E me lo tiro su. Quanto è una caccoccia. Quanto abbiamo anche. Quanto abbiamo anche. Lo stile avvistato? Lo stile avvistato dove, raga? Ho sentito l'audio. Sì, sì, l'aveva finnato troppo. Adesso siamo verso il Super Store. Perché stavo comprendo questa zona. Stavano avvicinando. Ma l'ho cambiato strada. Tu hai già il fantasma? Io sì. Però... Devo levare i struttivi. Che va lo shop? Che va lo shop è qua? Lo shop è dove c'è troppo. Io lancio qua. Viene prendo un alto. Io non ho un alto. Viene prendo l'amardamento così. Dai, va. Allora, tra l'angente al Super e alla macchia. Allora, però... Al Super, dato che ho detto qua, ti riusciamo per bene, eh. Il partito è che non c'è il testo. Qua c'è un'altra cosa con l'altra del 5 piastro. C'è un'altra saccoccia. Il lì c'è saccoccia, 5 piastro. Io non ho 8, però comunque ci sono delle strutture. Una, vediamo altri che sono qua alle montagne. In una montagna. C'è tanto al Super secondo. Altra pianta a salire. Se comunque quelli che è stato sparando io. Minaccia due raga, minaccia due. Minaccia due ma... Magari sono quelli del Super. Oh, no. Mi ha messo giù da non so dove raga. Da... Est. Puttana. Siamo vicini raga. È arrivata una check in alto. Siamo vicini verso raga. FUN к'altro, quelli del Super... P así river. Peck, quelli del Super V&B. Be�로 hendŚ�em. Fuori di Yanke�... E' una merda raga! Qual定i 주 donde la siento... Ah, colpito, quello qui è il 2008. Vabbè io chiama l'uomo, vive vediamo. Fum standing UAV ovvere 100 passi sotto chiudila anche oh ancora sul punto viola c'è il cecchino sul punto viola merda mi ha messo giù inizia l'autorust i bastardi hanno già fantasma vabbè io non mi faccio piastre però sto con un open gate qua perché non ne metto giunti raga state lontano dalle porte che se salgo il tirano il c4 ok uno crackato anche lui deve farsi piastre oh mi sai sono sulle scale raga ha sentito dei passi sicuramente abbiamo fatto ce ne sono altri nella scala avevano flashato il carmelo tanto passi si si siamo io e nick ce n'è un altro controllate l'altra porta tanto allora ho detto stordenti oh attenti gli altri cecchini in fondo di prima si quelli la sono ma che in fondo è il fatto che dobbiamo scendere raga c'è il gas merda sono saliti dalla finestrella là straccato a terra dentro la finestra no ma c'è il primo è un bel resto un altro ho fatto io li butto raga ci sono peressati dentro anche loro buttiamo no no ma hanno ucciso eh ma hanno ucciso in volo no secchi il tuo team è stato sentito al gurlack si chiuderemo questi qua si sono buttati? eh esatto quello che volevo chiedervi io e due li uccisi erano dentro nell'androne delle... io ne avevo atterrato uno nell'androne fai andiamo io passo di qua raga non lo sono coperto non lo sono coperto tre sfiga però cazzo non mi buttavano vai tiriamo su subito ah vabbè ce li devi far il gulag ancora si sono ancora e gli altri due non so dove cazzo siamo andati con il chilo abbiamo dai segniamoci un altro punto devo andare almeno c'è qualcosa e allora vinto siete sopra? ok gli altri sono ancora via con la casa via raga le due case sono dentro comunque quelle là sono in due ho corrigo il punto viola ah raga sta mirando qua la stanno spara la stanno spara perdiamo solo tempo e piastre non lo so non lo so e beh io te l'ho visto è stato male erano in due più per l'altro erano in due per l'altro per l'altro per l'altro per l'altro ho pure sto cazzo il rislesso che non si vede niente è la lingua io c'ho luoghi se volete ditemi quando tirarlo oh mi ha messo giù raga riuscito a arrestarmi deve sei? ah sei sopra sono bloccato sulle scale io vado dentro un attimo qui a prendermi le munizioni oh ne abbiamo una a fianco anche nel palazzo mi ha fatto buttare via tre piazze eh anche a me con la fila di puttana lo stesso pure a me cosa facciamo? passiamo da dietro palazzo cosa ho dovuto fare? ragazzo arrivano anche vediamo spara dietro io ce l'uovo via vedete il nostro volante eccoli la che sparano ancora eh che qua siamo in campo aperto quel cazzo non ci vede sicuro ma no da quei tt non ci si vede no? ok no no io son dentro comunque entri in questa casa qua è il bordo safe vedo se dentro erano gli altri intanto devo brossar non ci sento è il bordo non ci sento non ci sento ah male attraverso passo passo Sì, che stava? Mi ti ho visti? No, però Oh, ancora sta sparando Oh, di nuovo mi ha preso sto coglione Ma che è? Eh, ma non è più Ma l'ha sprecato 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 Raga qua c'è scalato questo virgo Dovete uscire raga ce l'ho messo Ma quando ho messo giù non c'è una vera Una vera E' allucinante quello l'era Qui ci rimuora No, cazzo Allora devo riuscire a entrare? Qui ci rimuora Qui ci rimuora? Qui ci rimuora? Qui ci rimuora? Raga qualtetto è free Laggiù Stanno faiutando Cogli di col tetto lì Sì, ma sono fuori safe per un attimo Però il tempo di farvi tutte le scarole non riesce Non c'è una cassa Non c'è una cassa Non c'è una cassa E tre shop tutti inculati E tre shop tutti inculati Stiamo andando verso l'obiettivo Stiamo andando verso l'obiettivo Stiamo andando L'obiettivo è inutile Stiamo andando Avete una piastra da raccambi? Sì Stiamo andando 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 Ok Ma hai cominciato a raggare Salveci questo per l'obiettivo eh Va bene, noi non possiamo salire in questa? Right, I'm going Ma dove anche a me di nuovo? Ma che è? Adesso si può andare verso Final deployment is making ready Your windows closing fast Gas is inbound Marking new safe zone Next objective location Sì 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 Sto aspettando a Carmelo Sì 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 Quanti cazzo di lanci sono scesi però C'è C'è lo shop lì E la cassa dall'altra parte Un agente lì Dovete i cecchi Io non l'ho E' andato dietro E' andato dietro Qualcuno l'hai colpito più bene? Io? E' qualcuno qui l'ha colpito Un'altra sto andando via Ok noi siamo ancora in salita cazzo Io dovrei andare a prendermi l'appappaggiamento raga Ah ci sta C'è anche uno shop da quella parte Ah quello che stavo dicendo Dove 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 scatto montagna sono lì dentro raga aderlo a casetta per un attimo stilo craccato e poi secondo me c'è altra sono sui compagni da qualche parte Sì io non vi senti potrei qua sopra Sì 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 l'ho visto scappare Allora lui si è fermato lì a fare l'eroe non so perchè Il mare è rimasto incastrato No è andato via, l'ho visto andare via adesso è scappato, è scappato Sì sì perché io sono qui in questa casa e non c'è nessuno Cazzo potevo chiedere lì ombre Oh bene mica ma mi vede Uno con l'avanzo Oh mi sono scala da me forse Atterrato uno però c'è il sozzo Mi deve una mano Finito il sozzo Granata qui occhio Guarda guarda Stai da spalla A terra a terra Finito uno davanti a voi Ti mani in tappo ti mani in tappo Salvo un piastro cazzo Ne sono io ne ho trovato cinque Mi faccio due No se lo fa la maschera non ci credo Oh cecchino 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 raga Dove c'è il punto Eh scappato ok tirate giù vai Io non ho tre piastro voi come siete messi hanno arrestato uno lì Te ne lascio giù una tiè Si si mettiamoci nel posto migliore Non c'è niente Non c'è niente una casa niente Questo è possibile Io sono sceso perché stavo Buono buono Uno che si sta droppando Fanno le fumoci ma Ti tiro il fumo Che cazzo bomba Ma comunque Lo siamo messi bene Io lo tele piano insieme alla safe Ma le armi ce li hai Io si lo credo No 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 Si si ma anche era Poi un minuto di aver tirato su una maschera anticassa Ha perso un po' di piano Eh non c'è niente dal cazzo Allora probabilmente devono scendere da sto testo Oh da qui da qui raga Eh che l'hanno ucciso Non so chi l'ha ucciso E' con un altro racco E' un'altra Raccato Statti di Lanser bombardamento Vai vai Lanser E' proprio dove c'è il Il giusto butore Tre team Quattro Stacca scappando Stacca scappando Stacca scappando raga A terra ucciso Prima nient'altro Quattro contro Ah no Quattro contro Bok Ok Stacca scappando E' un po' di A questo punto io mi faccio una che offre Poce un po' in endgame così Se vedete fumogene per Uh Io sto guardando verso il punto viola Da dove da dove da dove Da dove? Da dove? Da dove? ok lo vedo a terra quello la che ci stavo sparando abbiamo la abbiamo il abbiamo il gas a terra un altro lì colpite un altro e uno lì a terra quella a sinistra è ucciso a terra un altro da dove? da dove? fatto fatto siii grandi raga aveva detto della cicca storta grandi raga mandagli la foto che hai a sbrillo di gli occhi che ti raggiungo e lui non si vede mai 11 bombots mi piace ii 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 ii